comunque sulla domanda che hai giocato Marcello mi hai cotto per bene dopo quando ero cotta a puntino ciao il tuo carattere non mi piace queste sono state le tue risposte come ho fatto a cuocerti quando io ero bella cotta no Marcello sapevi benissimo come muoverti hai giocato con me hai giocato perché se uno sentiva le stesse cose che hai detto è uguale a quelle che ho sentito io cioè non si spegnevano così velocemente e non mi puoi venire a raccontare caratterialmente ma caratterialmente cosa? ma proprio il discorso di sensibilità hai detto che lei è stata poco sensibile a raccontare una cosa bella al centro studio e quando si conosce una persona si va a guardare all'interno della vita di quella persona quello che è successo voglio ricordare a tutti che Marcello al centro studio un paio di volte ha pianto per Ida io voglio ricordare questo perché forse si saranno dimenticati un uomo che piange per una donna nel momento in cui chiude la relazione ma almeno due giorni tre giorni vuoi stare male e poi chiede il numero di un'altra donna tu la sera stessa chiedi il numero di Marica sì sì e questo è il punto se l'avessi fatto Armando per me non mi sarei stupito ma fatto da te mi sembri un bluff allora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti